Bene, siamo in collegamento quest'oggi, ci fa molto piacere, lo ritroviamo via Zoom, il pescarese, è proprio il caso di dire così, Alessandro Marino, che è socio di minoranza in questo momento dell'Olbia, ha ceduto il club a novembre e non è più presidente dell'Olbia dallo scorso 17 marzo. Intanto ti salutiamo Alessandro, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao e un saluto a tutti gli telespettatori. È una stagione molto complicata per l'Olbia, che cosa è successo? Sono stagioni che, come sempre accade, partono con un certo auspicio e poi dopo, durante la stagione, non vengono superate alcune difficoltà e che si accumulano e diventano come una palla di neve sempre più grande quando rotola. Però io credo che il finale si debba ancora scrivere e la squadra non debba bollare perché ci sono ancora speranze di andare a play-out e poi a play-out è una lotteria. Certo che, insomma, contro la squadra della tua città domenica prossima alle 14 si giocherà naturalmente ad Olbia. La squadra dovrà disputare, come si dice in simili circostanze, la partita della vita e sperare naturalmente risultati favorevoli. Sì, l'Olbia è obbligata a vincere, in quanto le concorrenti sono tutte sopra in classifica. Bisogna anche sperare che alcuni risultati si incastrino. Credo che ci siano le possibilità per farlo, ma visto che il Pescara è comunque una squadra importante, deve riuscire comunque l'Olbia a fare un'ottima prestazione. Diciamo che Marino ha scritto pagine indimenticabili nella storia recente dell'Olbia, perché se non vado errato questo è l'ottavo campionato consecutivo di Serie C, dopo aver vinto l'AD nel 2016. Esatto, sotto la mia gestione abbiamo fatto una vittoria della Serie D e poi dopo sette salvezze e un play-off di C. Chiaramente mi porterò sempre questi anni con me, probabilmente a fine stagione mi muoverò per altre avventure calcistiche, sto ancora valutando varie possibilità, ma questi otto anni, nove anni per me sono stati veramente eccezionali e resterò sempre un tifoso dell'Olbia. Naturalmente Marino ha un ottimo rapporto con i dirigenti del Pescara, con il Presidente Sebastiani. Che chiave di lettura dà Marino della situazione tecnica, ma soprattutto ambientale, che si vive a Pescara? Sulla situazione tecnica credo che tutto sia di peso dalle vicissitudini legate all'allenatore, perché comunque la squadra è una squadra costruita con un'intenzione precisa, quella di valorizzare al massimo il calcio di Mister Zema. Quindi non credo sia colpa di nessuno se il Mister abbia avuto dei problemi di salute e questo ovviamente sta incidendo tantissimo sulla continuità del progetto tecnico e quindi ovviamente anche sulla classifica, che secondo me potrebbe essere migliore. I fattori ambientali credo che siano negli ultimi anni stato un po' una costante, però come sempre i risultati sportivi non aiutano poi magari rispetto ai fattori ambientali. Quindi è importante, secondo me, anche per il Pescara riuscire a piazzarsi nel play-off, nella migliore posizione possibile e poi nei play-off tutto può succedere. Nell'occhio del ciclone è il Presidente Sebastiani, che è stato invitato dalla tifoseria a passare la mano. Quanto è difficile la vita da Presidente, Marino? Molto, molto difficile. Daniele è un amico e so quanto sia difficile vivere certe situazioni e quindi ha la mia solidarietà. È chiaro che bisogna sempre ascoltare le tifoserie, però quando ci sono in ballo delle situazioni societarie, anche delicate, non sempre si riesce a fare ciò che si vuole come Presidente. Quindi credo che in questo momento il tifoso dovrebbe comprendere la situazione e cercare di mettere al primo posto la squadra perché la squadra ha bisogno di tranquillità per poter disputare al meglio la finale di stagione. Tre allenatori sulla panchina dell'Olbia, un po' quello che è successo a Pescara, prima Leandro Greco, poi Gaburro e dalla scorsa settimana Oberdan Biagioni, che io ricordo come un grandissimo calciatore, è stato anche allenato da Zeman a Foggia, ex Udinese, in Abruzzo ha giocato a Giulianova. È chiaro che fare l'allenatore è un'altra storia. Perché questa scelta? La scelta, diciamo, soluzione interna quindi? Sì, credo sia stata una soluzione interna che comunque alla fine ha un senso, perché comunque Biagioni, peraltro, corsi e ricorsi, quando io arrivai in Serie D nel 2015 c'era Biagioni come allenatore della prima squadra, quindi sembra un po' una casualità, ma è così, è tornato ad essere lui l'allenatore dopo tutti questi anni. Però lui in questi ultimi due anni ha fatto molto bene con la primavera e ha dimostrato di poter avere le carte in regola per riportare nel finale di stagione quell'entusiasmo che è necessario per poter raggiungere risultati sportivi difficili. Credo che il ruolo dell'allenatore non sia soltanto quello di mettere la squadra in campo, ma proprio anche quello di motivare in poco tempo e credo che il mister Biagioni abbia queste caratteristiche. Davvero in bocca al lupo per questo finale di stagione. Crepi, a presto.